Non è la prima volta che l'ingegnere scafatese Giuseppe Pisacreta ha a che fare con la giustizia. Nel 2001 fu tra le persone indagate come responsabili del rogo che uccise ben 19 persone alla Sir di San Gregorio Magno. Fu messo ai domiciliari, poi assieme ad un altro funzionario dell'ASL chiese il patteggiamento e ne uscì con una condanna a due anni e tre mesi. Ma ancora prima Pisacreta, come costruttore di ledi scafati, fu tirato in ballo in un processo di camorra da un pentito, Pasquale Loreto, che lo accusò di aver beneficiato dei favori della nuova famiglia. Vendette otto appartamenti destinate ai terremotati al comune di Scafati intorno agli anni 90. L'appalto venne affidato per 680 milioni ma pagato dal comune 800. I soldi in più finirono nelle mani dei clan. Un'immagine non certo cristallina quella che viene fuori del funzionario, eppure nelle registrazioni che lo hanno incastrato ci tiene a precisare la sua buona fede. Guarda, dice in una conversazione del 12 luglio fatta da Ciaroli con Giannella, Io, con il mestiere che faccio, se era una cosa illegittima, non mi sarei mai permesso di chiedere una cosa che potesse mettere in difficoltà il collega. Non esiste proprio. Qui non ci sta nessuna difficoltà, insiste, circa la possibilità di dare parere positivo al condono. E, di fronte alle resistenze del tecnico comunale, continua a sottolineare le mancanze riscontrate nei controlli sui cantieri di Pollica. Io adesso, per chiudere questa cosa, dice, Qua ci stanno 30.000 euro di contravvenzioni. La validazione non è perfetta, quindi in via teorica dovrei mandare tutto all'ANAC. È una questione delicatissima. È capitato anche ad un altro comune ed è successo un casino di quelli mai visti. Io mi voglio prendere tutte le responsabilità, però adesso ne ho approfittato, ma è stato un caso. Dalle intercettazioni emerge anche la non proprio chiara natura dei controlli effettuati da Pisacreta sui cantieri di Pollica. Ma per questi sopralluoghi c'è stato un esposto e di routine, chiede Giannella. Un esposto, un esposto in generale, risponde Vago Pisacreta, un esposto su tutta la costiera. Chiaro poi il collegamento tra il condono e le pratiche ispettive al comune. Le dobbiamo collegare, chiede ancora Giannella e Pisacreta. Ti sto dicendo, adesso è capitata questa occasione, c'è una disponibilità assoluta dell'ufficio. La prossima volta che tu hai la responsabilità di fare un piano sicurezza, prima di farlo vieni da me. Quindi in questa occasione tengo questo problema con voi di mia moglie, vediamo un poco se possiamo risolverlo. E in un altro spezzone della stessa conversazione viene fuori la riluttanza del tecnico comunale non solo a fare un illecito, ma anche a rovinare la bella costa di Pollica. Io penso, dice il Giannella, che questo non riusciamo a farlo, questo parere favorevole. Ma tu hai parlato con il sindaco, insiste Pisacreta, e che gli devo dire? Questi sono atti tecnici, il sindaco fa atti gestionali. Con il sindaco non ho parlato, perché quello è uno scheletro in una costa, madonna mia, dai!